Gloria a Dio, pace a tutti e benvenuti. Sono molto emozionata e ringrazio Dio per questo onore e questo privilegio che mi sta dando e non vi nego che veramente stare qui è molto molto emozionato, lo capisco i fratelli quando portano la parola. Vogliamo iniziare subito la serata entrando nel vivo di quello che è la tematica che il Signore mi ha dato per ognuno di voi e per la mia vita. Veniamo alla locantina, il tema è fedeltà, parola meravigliosa che il Signore ha dato alla mia vita ancora prima che venisse il caro fratello Unico Battaglia. Veramente ho visto come questa parola all'interno della Bibbia si parla continuamente della fedeltà di Dio. Allora mi sono cominciato a chiedere ma cosa significa fedeltà? Fedeltà è molto sfaccettata come parola, ha un sacco di contenuti. Vediamo che la fedeltà innanzitutto come definizione è un patto, è un'esatta corrispondenza tra due parti, tra persone che assumono un impegno. Questo è un patto di fedeltà. È un impegno morale di rimanere leali costi quel che costi. indipendentemente dalle circostanze della vita, vi potete accomodare fratelli. E si basa sulla fiducia, che è un valore molto importante. Cosa quindi significa fedeltà? Vuol dire essere fidato, leale, costante, preciso, conforme, veritiero ed esatto. Pensando a questo pensavo a un televisore. Siamo tutti appassionati di tecnologia e nessuno di noi manca a casa un bel televisore almeno 52 pollici. Più è alta la definizione, quindi più i pixel sono presenti, la tecnologia è più avanzata e più costano. E vediamo che questi pixel danno la restituzione, sono le unità di misura che vengono utilizzate per dare massima fedeltà all'immagine che viene poi proiettata. Quindi viene ripresa e poi viene proiettata e noi vediamo da spettatori quello che viene proiettato appunto. Quindi maggiori sono i pixel, maggiore è appunto la tecnologia, maggiore è il prezzo e il valore di quel televisore. E noi siamo chiamati, lo Spirito Santo mi portava a riflettere su questo, che noi siamo portati a essere conformi, reali, precisi, esatti, conformi a quelle che è la parola di Dio. E questo impiega tempo, crescita, impegno, studiarsi, avere la volontà di andare avanti seriamente con l'opera di Dio. Vediamo chi è il perfetto per eccellenza, colui che ci ha grandemente amati, è Dio, che ci ha creati, ci ha generati, ci ha amati fin dalla fondazione del mondo. E il suo amore è perfetto, lui è fedele, lo vediamo nella scrittura cosa dice in Deuteronomio 7,9 e dice così, riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Vediamo qua proprio il tempo, il concetto di tempo, proprio di fedeltà che è autentica e duratura nel tempo. Qui si parla di patto, Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua benignità. Molto spesso nella Bibbia fedeltà e benignità camminano insieme, perché sono proprio le caratteristiche di Dio. E lui ci conserva questa benedizione, questa sua fedeltà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. L'altro verso, gentilmente, dice così, in Salmi 33,4. Perché la parola dell'Eterno è retta e tutte le sue opere sono fatte con fedeltà. Noi siamo opera del Signore? Sì. Noi siamo opera sua, siamo stati fatti con fedeltà, col suo amore inestimabile, meraviglioso, prezioso. Tutte le opere che vediamo nel creato sono fatte con fedeltà. La parola di Dio dice pure che la sua fedeltà è alta fino alle nuvole, arriva fino alle nuvole. C'è tutto quello che l'occhio nostro può prendere, può comprendere, no? Di quello che vediamo. Quindi è massima altezza, vedere anche le nuvole, noi oltre i cieli dei cieli. Dio lo ha fatto per ognuno di noi, per il suo amore e per la sua grande fedeltà. E vediamo che nella vita del credente gli effetti benefici della fedeltà di Dio portano molte cose favorevoli. Innanzitutto Dio rinnova le sue compassioni ogni mattina, la sua fedeltà porta a questo. Ogni mattina noi riceviamo le sue compassioni che non smettono mai di rinnovarsi. Questo è l'amore fedele per ognuno di noi. Quindi nel nostro risveglio vediamo la fedeltà di Dio. Poi vediamo che la fedeltà di Dio è rifugio, è protezione. Questo lo vediamo nel Salmo 91, il verso 4. E dice così. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai il rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. La fedeltà di Dio va oltre tutto quello che noi possiamo pensare, immaginare. La sua fedeltà ti sarà scudo attorno. In tutte le circostanze negative della vita, in tutte le situazioni, lo scudo della protezione di Dio e la corazza. La corazza ha a che fare col torace. Quindi tutte le cose che ci fanno male, anche le sofferenze interiori dell'anima, la benignità di Dio, la fedeltà di Dio ci farà da corazza per rimanere saldi e rimanere sempre fiduciosi in colui che ci ama grandemente e che ci libera da ogni cosa. La fedeltà di Dio ti custodisce e ti dona riposo nelle sue promesse. È importante conoscere la parola di Dio per crescere nelle sue promesse e sapere che Lui è il Padre sul quale possiamo sempre contare, su cui possiamo sempre contare. Dio non ci abbandona, continua a consolarci sempre, ci garantisce vittoria sul nemico. Il verso in seconda a Tessalonicesi 3.3 dice questo, ma il Signore è fedele ed Egli vi fortificherà e vi custodierà dal maligno. Questa è l'azione di Dio nella vita del credente, di coloro che lo amano e anche di coloro che ancora non lo conoscono, perché Dio è fedele non per negare la sua natura di fedeltà. Il Signore è fedele ed Egli vi fortificherà attraverso la conoscenza della sua parola, attraverso la comunione con lo Spirito Santo, attraverso la crescita che piano piano noi facciamo, ma la crescita conviene farla a noi proprio per conoscere questo amore. Dio è fedele, ma noi non possiamo arrivare a concepire questa fedeltà quanto è grande, quanto è stesa e come si espande per tutti i settori, tutti gli ambiti della nostra vita, di tutto quello che passiamo. E il Signore ci custodierà dal maligno. Questa è una promessa. Dio dà vittoria al suo popolo. Possiamo attraversare le stagioni più o meno belle, però Dio è fedele. Dio ci dona anche stabilità nel cammino della vita. Ci sono momenti in cui vacilliamo, ci sono momenti in cui il terreno si fa un po' impellestare un po' impervio, ma Dio ci dà stabilità attraverso il suo amore, la sua fedeltà, la sua parola, le sue promesse. E poi ci libera anche da pensieri di scoraggiamento. Capita a tutti di essere scoraggiati? No. Ci equipaggia di pace nelle tempeste, nelle situazioni avverse, perché Dio ha sempre un proposito più alto. A volte passiamo anche delle stagioni più o meno floride nella nostra vita, ma è sempre perché Dio è fedele, è perché dalla roccia Dio scaturisce l'acqua, dal deserto Dio trae un frutteto. Dio cambia, cambia le stagioni nella vita del credente, proprio perché Dio vuole che l'uomo sia sempre più legato a Lui in gratitudine, in fedeltà, in amore. Perché noi abbiamo a che fare con Dio onnipotente, non con un Dio qualunque. Il nostro Dio è il vero Dio, colui che ha creato i cieli della terra, è l'onnipotente Signore. È colui che ci ha creati, ci ha chiamati a sé e ci ha tratti fuori da una fossa di perdizione. Lo sappiamo tutti, lo possiamo testimonare qua tutti noi. È colui che ha iniziato un'opera buona in noi, è fedela da portarla a compimento. Questo amore di Dio, questa fedeltà, in noi crea anche fiducia assoluta verso chi ti è stato fedele. Nella vita abbiamo a che fare con le persone e non sempre tutte le persone che incontriamo si mostrano fedeli, no? Perché siamo imperfetti, solo Dio è perfetto. E questo ci porta ad andare ai piedi del Signore, ci porta a consacrarci sempre di più al Signore, a comprendere sempre di più qual è il suo piano fedele per la nostra vita. Il suo amore perfetto che caccia via ogni paura, che ristora, che rigenera giorno per giorno. Aumenta quindi la fiducia, aumenta l'amore verso di Lui, è guarigione fisica e anche dell'anima. È trasformazione, è formazione, è vittoria. vediamo anche che come la perfetta fedeltà di Dio verso l'umanità, noi impariamo anche questo. Noi siamo uno specchio, no? Di quello che leggiamo attraverso la parola, noi poi riflettiamo se fedeltà è, se autenticità è di quello che vogliamo, di fedeltà al Signore. E impariamo questo, che la fedeltà si trasmette, perché se noi abbiamo a che fare col fedele, noi possiamo essere poi fedeli con gli altri. E il fatto di essere fedeli con gli altri che ha relazioni sane, e questa è una cosa molto importante al giorno d'oggi. Perché le relazioni fedele sane sono poche ormai, e lo vediamo, no? Nel mondo come vanno le cose. ma Dio è fedele e forma la generazione di uomini, di donne fedeli che possono andare a portare la testimonianza di colui che è il fedele ovunque. La fedeltà significa anche affezionarsi. Tu vuoi stare accanto alla persona che si è mostrata fedele con te, che ti ha tutto, che ti ama, non smette mai di amarti, che ti protegge, ti console in ogni istante della tua vita, e questo ti porta ad affezionarti sempre di più, e a comprendere il valore di quella fedeltà autentica che nessuno mai ti potrà dare. Come alimentiamo la fedeltà? Con la conoscenza della parola di Dio, e quindi con le promesse della parola di Dio, perché appunto ti innamori. Con una costante vita di preghiera, perché non puoi fare a meno di colui che è il tuo salvatore, il tuo signore. Attraverso la comunione col corpo di Cristo, perché la fedeltà ti porta ad essere fedele con chi condivide con te la fedeltà di Dio, no? E quindi le relazioni sane che si stavolano tra di noi, popolo di Dio, ti portano, no? A essere anche grato a Dio e a servire il corpo di Cristo. Guardando anche l'esempio dei nostri ministri, stanno accanto a loro, si impara a essere fedeli. Ogni cosa non è scontata. Sono esempi. Io vi ricordo quando sono venuta a salvezza, insomma, vedevo e imparavo, no? Era affascinata da questo e continuo ancora oggi a non smettere mai di imparare, di vedere proprio la fedeltà, la dedizione, l'amore, l'autenticità dei nostri ministri, no? Verso il Signore. Che relazione meravigliosa. E questo noi siamo tutti chiamati a crescere. E poi cosa scaturisce dal cuore del credente quando sperimenti la fedeltà di Dio? Quindi quando sperimenti che colui che ti ha fatto del bene non smetterà mai di amarti e che è l'unico che veramente ti ha fatto del bene, ti porterà a una scelta, alla scelta, alla scelta migliore che si può fare, scegliere per Gesù. Ti porterà a restare fermo per Gesù. Perché quando scegliamo per Gesù lo sappiamo, no? Arrivano le onde, le tempeste, ma chi rimane saldo e rimane fedele. Perché ha conosciuto il fedele, non si lascerà mai smuovere da niente e da nessuno. C'è un verso che dice nel Salmo 119, 30, ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi decreti davanti a me. Io ho scelto, ognuno di noi ha scelto, noi abbiamo scelto. Dio si è fatto conoscere, ma siamo noi a scegliere ogni giorno. Fedeltà ti porta a fare anche scelte di ubbidenza per il Signore, scelta di ubbidenza ogni giorno, in base a quello che leggiamo alla parola di Dio. Ma la scelta di ubbidenza è anche fare il battesimo, è una scelta di ubbidenza, scelta di appartenergli. Perché? Per amore, per la fedeltà che Lui ti ha mostrato. Ti porta a essere autentico, a stare sempre attento alla propria testimonianza, perché noi siamo il buon odore di Cristo. E il fedele testimone nella Bibbia è Gesù, il fedele testimone, il testimone veritiero. Nell'epocalisse è continuamente citato questo. È testimonianza non è ansia quindi. È un fatto personale col Signore da parte nostra. Nessuno mai ti dirà cosa o come devi fare, ma è una relazione personale con Dio che noi abbiamo, figli di Dio. Noi non serviamo alla religione. Noi abbiamo conosciuto Gesù come Signore e Salvatore. E se siamo autentici, siamo fedeli, abbiamo una relazione personale, noi sappiamo ciò che è giusto, ciò che non è giusto, ciò che significa rimanergli fedele, ciò che significa uscire un po' fuori dalle vie. Significa anche arruolarsi. Io avrei voluto fare carriera da militare. Ora dico, mi sarebbe piaciuto fare la poliziotta. E ho conservato sempre questo desiderio. Però il Signore nella sua benignità ci porta anche, è fedele anche in questo. Perché nell'opera di Cristo noi siamo come tanti soldati. Siamo stati arruolati. Prendiamo il verso in secondo Timoteo, 2-4, e dice così. Ma tu sei vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fa l'opera di evangelista ed empi interamente il tuo ministero. Noi abbiamo una grande responsabilità. Da soldati, ogni soldato sa il compito che deve svolgere. Ogni soldato cerca di svolgere pienamente, fedelmente, l'opera per la quale è stato chiamato, per la quale è stato arruolato. E se qualcuno vuol piacere al proprio padrone, si comporta come il proprio padrone richiede. In ambito lavorativo esiste l'obbligo di fedeltà. Non so se qualcuno di voi, chi lavora, non lo so. Esiste questo obbligo di fedeltà che non è altro che un patto che viene esancito tra le due parti, il lavoratore e il datore di lavoro, in cui tu ti impegni a non fare propaganda, a non dire le cose interne, di quello che il tuo datore di lavoro magari dice alla propria azienda. C'è proprio il segreto professionale da mantenere. E questo è un patto che si fa, proprio l'obbligo di fedeltà, che si fa in ambito lavorativo. Tanto noi più questo obbligo di fedeltà al nostro Signore che ci ha tanto amato, ci ha risvegliati, ci ha tolti dalla polvere e ci ha portati nel suo regno di mirabile luce. In Filippesi 2,20, verso 22 dice questo. Non c'è? Non ti preoccupare, lo leggo io. Non ti preoccupare, ah è questo, secondo Timoteo 2,4, lo leggo io se vuoi. Il bello della diretta. Dice così, nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita, se vuoi piacere a colui che lo ha arruolato. Nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita, se vuoi piacere a colui che lo ha arruolato. Quindi, se vogliamo piacere al Signore, siamo chiamati e tenuti a comportarci come piace al Signore. Non sederci in compagnia di schernitori, non fare tutto quello che al Signore dispiace, perché noi non siamo stati chiamati a questo, noi siamo stati chiamati a fare quello che il Signore ci ha ordinato, cioè portare l'Evangelo ad ogni creatura. E poi, essere arruolato significa anche non avere tornaconti, ma la fedeltà, la lealtà è affidabilità. Il mio soldato, il mio figlio, il mio servo, sta facendo quello che io gli ho comandato, attraverso la parola di Dio, ed è un bene obbedire per ognuno di noi. Nessuno mai ci dirà, devi obbedire. Ma è una relazione personale col Signore, e ognuno di noi sa ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, perché Dio ci ha dato ogni facoltà spirituale per capire ciò che va bene, ciò che non va bene. E il Signore in questo ci forma, ci trasforma. Certo capita, no? L'errore capita a tutti, però il Signore nella sua fedeltà, nel suo infinito amore, ci rialza e anche lì, l'hai capito figlio mio? Alzati, fai meglio di prima. E questa è la fedeltà, la fiducia che il Signore ha riposto in ognuno di noi. Ma immaginate quale grande onore abbiamo. Abbiamo un Padre che con noi parla, che con noi comunica, che con noi interagisce. Il Signore non lascia nulla a metà, incompleto. Il Signore è vivente, è con noi, e noi abbiamo la comunione dello Spirito Santo, che ci permette di conoscere quelle che sono la volontà di Dio, le profondità di Dio, è tutto quello che viene dal Signore affinché noi possiamo ereditare sempre benedizione e camminare in un cammino di gloria, giorno dopo giorno. Dio ha cura della nostra fedeltà, a Lui si compiace dei Suoi servi fedeli, perché il Signore cerca operai fedeli nella sua messe. Quindi essere fedeli è adempiere un mandato. In secondo Timoteo 4,5 dice, ce l'hai Angela? Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta l'uomo letto, sopporta le sofferenze, fa l'opera di evangelista e adempia interamente il tuo ministero. Interamente. E interamente significa anche tutto il percorso della propria vita. Per intero. No fino a tre quarti, un quarto, mezzo, no? Interamente. Perché è bello l'inizio, ma ancora più bello sarà la fine, col Signore. Quindi la lealtà da quale sentimento scaturisce? Scaturisce da un cuore che è grato a Dio e che ha conosciuto, che è il Signore per la propria vita. Scusatemi, sì. E se tu hai compreso questo, di che è stato Dio nella tua vita, nei tuoi trascorsi, nelle tue traversate, nei tuoi deserti, fedeltà significa anche donare il meglio al Signore. Donare assolutamente tutto quello che è tuo a colui che ti ha mostrato la fedeltà più bella, più nobile che si possa mai sperimentare. Leggiamo Luca da 7, capitolo 7 da 37-39. E dice così. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai suoi piedi, di dietro piangendo, comincia a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugargli con i capelli del suo capo e glieli baciava e glieli ungeva con olio profumato. Al vedere questo, il fariseo, che lo aveva invitato, disse fra sé, se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Allora, in questo racconto meraviglioso della nostra Bibbia, in questo fatto accaduto realmente, Gesù si trovava in casa di Simone il fariseo. Gesù si trovava là e all'improvviso entra proprio questa donna e quello che mi ha colpito, lei arriva alle spalle di Gesù. Non aveva nemmeno bisogno di vederlo o di girarsi davanti e catturare la sua attenzione, perché lei aveva riconosciuto colui che era fedele. Questa donna era giudicata da tutti perché era una peccatrice, magari era allontanata, era ammarginata. E a volte queste emarginazioni che gratuitamente, volontariamente, vengono fatte sulla vita di una persona, possono scaturire da fatti che quella persona magari non ha creato o sono conseguenze di altre cose. Magari lei non aveva scelto di fare quella vita, ma era stata indotta, noi non lo sappiamo, però era giudicata come una peccatrice. Questa donna sicuramente aveva cercato l'amore in tante persone. Ma era rimasta delusa, sola, disprezzata. E lei appena sa che Gesù è all'interno della casa del fariseo, arriva da dietro, gli si butta i piedi. Le bastava vedere solo i piedi, da dietro, non ci fa niente. L'importante era toccare Gesù. E lei portò un vasetto, un vaso di alabastro. Questa cosa mi ha fatto riflettere. L'alabastro è un minerale, un marmo abbastanza duro. Nella Bibbia sta scritto che noi siamo vasi di terra, vasi di argilla. Questo vaso, il suo vaso era di alabastro. Chissà quali durezze, quali ferite, l'avano portata a diventare così. Così magari anche scontrosa con gli altri, magari si difendeva, si proteggeva. Però lei appena vide Gesù, il maestro, è andato ai suoi piedi, si è inginocchiata, ha rotto quel vaso. Il suo cuore si è espanso. Ed è uscito un profumo d'odore soave, no? Che ha investito tutta quella casa. Quell'olio era preziosissimo per lei. Ma lei lo ha impiegato per darlo a Gesù, il meglio, ha dato il meglio. Non solo, con i suoi capelli, e le donne noi ci teniamo, noi donne ai capelli, no? È come se avessimo un manto, no? Che ha grazie ai nostri volti. E li curiamo. Lei con i suoi capelli ha asciugato i piedi di Gesù. Con le sue labbra ha baciato i piedi di Gesù. Con le sue lacrime ha lavato i piedi di Gesù. I piedi nella chiesa, servire la chiesa è servire il piede di Cristo. Questo ha un valore simbolico altissimo. Noi, se abbiamo veramente sperimentato la fedeltà di Dio, l'amore di Dio, non possiamo fare a meno di dare il meglio al Signore. Questo vaso dall'abbastro forse era il suo corredo, forse era una dote che le era stata data, in dote per il matrimonio, magari che, non lo so, non era mai accaduto, non era mai arrivato. Ma lei era delusa, stanca. E allora va ai piedi di Gesù, perché sa che lui era il fedele, colui che poteva risollevarla, restituirla nuova dignità, darle un nuovo cammino, ricostruire ogni cosa, curare il suo cuore, fasciarla. E dopo tutto questo, continuiamo per favore. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone, questo è Gesù che parla, vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi, era un'usanza degli ebrei. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Ha tanto perdonato con lei che ha molto amato. Ha tanto da essere perdonata e lei ha amato molto. Lei ha restituito ogni cosa a Gesù con la sua gratitudine, ha dato ogni cosa, ogni cosa che poteva da Adi. Tutto. Tutto quello che era suo, tutto quello che possedeva, anche le sue parti fisiche, no? Del suo corpo, le ha investite per baciare Gesù, per prostrarsi davanti a lui, adorarlo e fare vedere un esempio anche agli altri. Era giudicata come con lei che era una peccatrice, però lei aveva un cuore per il Signore. Questo ci porta a essere anche qui, fedeli, nel non giudicare, non guardare le apparenze. Perché Dio è colui che conosce i cuori, che sa ogni stagione, ogni situazione, ogni provenienza di ogni persona in questo mondo, che è sempre più arido, vi assicuro, ed è sempre più triste, purtroppo. Ma il Signore ha bisogno di un esercito, vuole, desidera, un esercito di fratelli, sorelle che si adoperano per servirlo fedelmente e per portare l'opera di Cristo che risana, che consola, che ricostruisce, che muta l'utendanza, il deserto in un frutteto, qualsiasi cosa, perché Dio è fedele e attraverso la fedeltà che Lui ha mostrato ognuno di noi. Noi gli saremo grati e fedeli fino alla fine. La fedeltà è anche un frutto dello Spirito Santo. Qual è il simbolo della fedeltà? Quanti sono sposati qua? Oh, non fate finta di niente, ci sono gli sposati. Il simbolo della fedeltà è l'anello. Lo vediamo? Eccolo qua. Che bella questa fede. Ed è d'oro puro. Ha la forma circolare. La forma della fede è circolare, non è quadrata, ma è una forma continua, no? È una forma dinamica. È una forma avvolgente. È una forma che ti circonda. Questo è l'amore di Dio nella nostra vita. È una forma dinamica, quindi l'amore di Dio non si stanca mai. La fedeltà di Dio non si stanca mai nei nostri confronti. E la fedeltà è anche rimanere fermi in questo appunto, in questo patto che abbiamo fatto col Signore. La fedeltà di Dio significa anche progetto. Progetto significa pro-getto, dal latino significa getto-verso. Quindi riguarda l'avvenire. E questo di qua è l'avvenire glorioso che il Signore ha per ognuno di noi. Nel suo amore, nella sua fedeltà. Quindi pensando all'anello, no? Di questo fidanzamento. Il Signore ci tramanda queste parole meravigliose, sono scritte in Osea, le progettiamo, e dicono questo. Ti fidanzerò a me per l'eternità. Sì, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità, in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai l'eterno. Tre volte viene, ho notato questo, tre volte viene citato, menzionato proprio, ti fidanzerò. La prima volta dice, a me per l'eternità. E io in questo ho visto proprio la figura etrina di Dio, cioè meravigliosa. Io ti fidanzerò a me per l'eternità, Dio eterno. Ti fidanzerò a me in giustizia, l'opera di giustizia che Gesù ha fatto sulla terra per ognuno di noi. In equità, in benignità, in compassioni. E ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai l'eterno. Lo conoscerai perché è colui che viene a vivere dentro di te e che dimora dentro di te, è lo Spirito Santo. Tu conosci Dio per esperienza. La fedeltà di Dio si sperimenta per esperienza. E noi, di questo appunto, è il fidanzamento più bello che ci possa essere. Ma un fidanzamento, se tale è, non può rimanere sempre fidanzamento, no? Giusto? Simone e Serena, no? E altri qua che si apprestano a sposarsi. Il Signore ci promette un matrimonio. Lo vediamo in Apocalisse di Giovanni, 19, versi 7 e 8. E dicono così. Popolo di Dio, è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei Santi. Le opere giuste fatte con fedeltà dei Santi, di ognuno di noi. Le nozze sono pronte e noi ci prepariamo per lo sposo, per l'incontro più bello con Gesù. Se noi siamo, appunto, fedeli a Lui, vedremo questo matrimonio, faremo parte di questo matrimonio meraviglioso. E noi vogliamo ringraziare il Signore e dire veramente, vogliamo essere fedeli come Gesù, che fino alla fine ha sopportato il vituperio della croce per adempiere quello che era il mandato del padre, sulla terra per ciascuno di noi, per vederci oggi qua, un popolo appartato per Lui, un popolo, un esercito appartato per Lui, prezioso, stimato da Lui, amato, protetto, custodito, sanato. In ogni cosa, noi vediamo la benignità di Dio, la fedeltà di Dio sulla nostra vita. E quindi noi veramente vogliamo prepararci, fratelli e sorelle, dopo un escursus, capisco che il tema era enorme, vastissimo, però dopo un escursus penso che adesso abbiamo tutti più chiara qual è l'idea della fedeltà. E noi stasera leggiamo l'ultimo verso Angela, vogliamo alzarci e leggere questo verso tutti insieme della parola di Dio. Insieme a me leggiamolo, perché è una promessa meravigliosa ed è quello che il Signore ci chiama a fare. E rendo grazie a Cristo, nostro Signore, che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me. Noi vogliamo ringraziare il Signore e insieme dirgli grazie perché ci ha resi degni di fiducia. Noi che non eravamo un popolo, ora siamo un popolo, appartato, un popolo speciale, zelante, nelle buone opere. Un popolo fedele, che si studia, che vuole fare la volontà di Dio. Un popolo di soldati che avanza. Un popolo a bandiere spiegate, un esercito valoroso, forte, tenace, che non si ferma davanti a niente a nessuno. Un popolo che non ha paura, un popolo che vince, che trionfa perché sa che il Signore è l'Eterno e con Lui ed è colui che lo fortifica. Un popolo che conosce il grido del giubilo, un popolo che aspetta il ritorno di Gesù, nostro Signore e Salvatore. Vogliamo cantare un canto che veramente esalta la fedeltà di Dio. Tu mi hai fatto, tu mi aiuti e mi terrai con te. Sei fedele, sei fedele, sei fedele, la tua gioia, la mia forza è. Signore, sei fedele, sei fedele. Signore, tu sei mio Dio, io confido in te. La mia forza è, la tua gioia, la mia forza è. Signore, sei fedele, sei fedele. Signore, sei fedele, sei fedele. La mia vita è Tua, Signore Sempre tu sei con me da Tua mano Mi vida, la mia vita è Tua, Signore Sempre tu sei con me da Tua mano Mi guida, la mia vita è Tua, Signore Sempre tu sei con me, sempre tu sei con me La tua giornata, la mia forza è Sempre tu sei con me, sempre tu sei con me La tua gioia, la mia forza è La tua gioia, la mia forza è Signore Dio e Padre Santo, noi ti vogliamo ringraziare, Signore Dio, per l'opera straordinaria che Tu hai fatto nella vita nostra e che continui a fare fedelmente giorno per giorno, Signore Dio. Signore Dio e Padre Santo, noi, Signore, vogliamo tutti insieme alzare le nostre mani, Signore. E dirti, Signore, vogliamo esserti fedele. Tu sei stato fedele con noi, Signore, fino a morire la morte di croce, Signore Dio. Hai preso, veramente, hai oltrepassato ogni cosa, Signore. Ti sei caricato il vituperio, Signore Gesù, per darci vita, Signore, vita in abbondanza e per farci figli, Signore Dio. Grazie, Signore. Tu non ti sei tirato indietro da nulla, Signore Gesù. Sei andato avanti, Signore, per portare a compimento l'opera Tua, Signore Gesù. Grazie per il Tuo amore, Signore. E noi, Padre Santo, vogliamo veramente crescere nella gratitudine, nella fedeltà, Signore, nell'essere sempre più scrupolosi, Signore Dio, di studiarci, di piacere sempre di più a Te, Signore Dio, e di fare le opere che Ti piacciono, Signore Dio. Grazie, Signore Dio, per ogni cosa, Padre. Noi Ti benediciamo, Padre. Colui che opera in Te è fedele, da portare a compimento le premesse che Ti ha fatto. Dio è fedele, è il custode dell'anime nostre. Non si stanca, non si affatica, non si arnecchia. Colui che ha fondato i cieli e la terra dell'eternità, è il Magnifico. Colui che opera segni, prodigi e miracoli. E la cui fedeltà dura in eterno. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Vogliamo esserti fedeli, Signore. In ogni cosa, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Diamo un applauso al Signore. Grazie.